Si anima il mercato della Serie D e gli ultimi giorni hanno visto molto attive le società terramane. Il notaresco ha ufficializzato la guida tecnica. Si tratta di Massimo Epifani, il cui incarico era da tempo ventilato ed ora è stato ufficializzato. Per Epifani si tratta di una sorta di ritorno a casa, avendo già allenato l'allora San Nicolò, con cui ha conquistato una vittoria del campionato di eccellenza e due qualificazioni ai play-off di Serie D, con una finale raggiunta nel 2015, persa con il Fano dopo aver eliminato la San Benedettese. A notaresco Epifani ritrova il presidente Salvatore Di Giovanni e il direttore generale Alfredo Natali. E per il tecnico pescarese è un po' come riprendere da dove ha lasciato, visto che nell'ultimo campionato fu esonerato dal Pineto proprio dopo la sconfitta di notaresco. Una mossa, quella del ritorno di Epifani, che dice tanto di come la società Rosso Blu, che ha accarezzato il sogno Serie C nella stagione che si è appena chiusa, voglia essere ancora protagonista. E dopo un tecnico quotato come Epifani, che nel suo pedigree ha anche panchine di Serie B, Pescara, e Serie C, Fano, ecco un altro colpo da 90. Il centravanti brasiliano Mateus Dos Santos, voluto fortemente dal DS Paolo Dercole, che già lo aveva avuto con sé a Francavilla nella seconda parte della stagione 2018-2019, lo scorso anno a vasto, Dos Santos ha già indossato in Abruzzo anche le maglie di Giulianova, Chieti, Avezzano e appunto Francavilla. E nel girone è una garanzia da 15-20 gol. A lui il compito di far dimenticare le giocate di Marco Sansovini. Due gli innesti del pineto del patrone Silvio Brocco, il DG Roberto Giammarino, attesserato l'under Davide Verdesi, centrocampista classe 2002, cresciuto nelle giovanili dell'Ascoli e proveniente dal Porto d'Ascoli. E poi l'esperto difensore classe 85 Davide Salvatori, colonna del notaresco nelle ultime due stagioni, nelle quali ha collezionato 54 presenze e 5 reti. Prime mosse anche per la neopromossa Castelnuovo, il responsabile dell'area tecnica Claudio Cicchi ha messo a segno due colpi, il portiere Vittorio Natale, classe 2001, nell'ultima stagione al Campobasso, dopo essere cresciuto nel Teramo, e il centrocampista Leonardo Gentile dal Ponte Vomano, ma con trascorsi in Serie D con San Benedettese, Folgore Veregra e Agnonese. Innesti che si vanno a sommare ad alcune conferme del gruppo che ha vinto l'ultima eccellenza, i difensori Calvarese, Terrenzio, Casimiri e Sanseverino, i centrocampisti Emili, Porrini e Bregasi, e gli attaccanti Di Ruocco, De Giglio e Antichi. In ritardo invece il Giulianova col presidente Bartolini, che da un lato pianifica la prossima stagione, dall'altro incontra imprenditori interessati a rilevare il club. Tramontata l'ipotesi Mucciconi, che potrebbe però collaborare come sponsor, Bartolini potrebbe vagliare la proposta di un'altra accordata locale. Ritardi anche a Vasto, dove ancora non si sono delineati ufficialmente piani e assetti societari, anche se da alcune indiscrezioni Franco Bolami resterà presidente e il club sarà ulteriormente rafforzato. Il candidato principale per la panchina resta l'ex agnonese Massimo Agovino.